buongiorno sono in aeroporto a palermo per un cambio perché devo andare da un'altra parte e starò quattro ore qui quindi adesso vi mostro cosa fare quattro ore in aeroporto a palermo potrei dormire visto che ho dormito un'ora e mezza probabilmente lo farò anche per cominciare finiamo di montare il video e carichiamolo che oggi deve uscire in realtà l'avevo già montato solo che ho scelto una colonna sonora con copyright e non potevo metterla quindi adesso cambio la colonna sonora e te lo carico la parte divertente è che tipo ho dormito un'ora e mezza proprio perché ieri sono stata sveglia fino a tardi per fare il video finirlo così oggi ero a posto e potevo dormire in aeroporto o godermi le quattro ore in aeroporto invece no sono qua a montare un video cosa? dove andiamo? a mangiare? vuoi uscire dall'aeroporto o solo dalla zona check in? la seconda che hai detto da questa zona qua puoi metterti un po' di qua? no ok allora facciamo così guarda un secondo che carico il video e poi usciamo va bene ok ce l'abbiamo fatta e sono solo le no ok ci ho messo un'ora sono le 10 e 20 vuol dire che in un'oretta l'ho caricato top fatto bene adesso andiamo a cercare da mangiare ma solo le 10 e mezza vuoi mangiare le 10 e mezza? ok devo fare la seconda colazione ok ora usciremo dall'aeroporto ma staremo dentro all'aeroporto avete capito come? usciamo dall'area check in e andiamo nei ristoranti fuori che sicuramente si mangerà meglio quanto abbiamo ancora tre ore? perché fanno bene? no perché c'è meno gente? no per camminare? no per dar fastidio a me? quasi tra i tre aeroporti in cui sono stata oggi questo è il peggiore magno oggi non hai calzini dentro sopra? c'è freddo oggi solo col freddo li metti? ah uscita way out nessuno si aspetta più cliché del mondo me mangio un'aranzina che devo fare? quello me mangio e andiamo a cercare cosa mangia Umberto abbiamo messo piede in Sicilia veramente possiamo toccare il clima siciliano l'area siciliana anche se poi è pieno di macchine quindi non penso sia questa siamo fuori, siamo fuori adesso torniamo dentro come mangio l'arancina arancina perché siamo a Palermo e perché c'è scritto è un porto di merda però è un posto in cui mangiare quindi questo video cosa fare 4 ore in aeroporto a Palermo sta diventando un cosa fare 4 ore fuori dall'aeroporto di Palermo ok ha deciso che torniamo dentro perché forse il posto che ha visto è dentro l'aeroporto penso che andrò di carne cioè arancina la carne quindi prendi questo due arancine sì e mezzo ha visto che nel video è troppo magro allora si vuole riempire a mia due a carne due a carne è tipo a essere al McDonald's qual'era l'altro? eh, misa pasta al forno la mia è pasta al forno no, quello da dividere è la carne è quello da dividere ah, allora io lo prendo uguale sì, è per quello che sei un coglione cosa bevi? acqua vale, quarta del sedere una e una? vabbè cosa hai preso? basta, vai al pagamento due a carne, una pasta al forno, un'acqua naturale e il panino con la presa a ola termine paga vai, vai pure a sederti Umberto, vai buono il tuo panino? io mangio questo con gli anelletti prima sai cos'è fresco, vero? non abbiamo mai mangiato l'arancino di pasta buono come riempie? non riempie com'è? assaggio quella ragù in tutto ciò sono le undici meno un quarto, no? ma ho sempre di dare stranenza cazzo, come stiamo arrivando stasera? divido con le mani, ok? sembra molto bello grazie è buono francese si stanno in aeroporto, è buono mangio anguola? Umberto è andato a comprare il tè, ti l'hai comprato? no, perché? perché non c'era questo è un ottimo motivo per non comprare qualcosa è vero vuoi tornare dentro? andiamo a dormire? andiamo tipo dove ci sono delle sedie dopo andiamo a dormire ecco come passare quattro ore in aeroporto ho abbandonato Umberto perché voglio andare a dormire almeno un'ora quindi adesso provo a entrare da sola in aeroporto sono di nuovo dentro vado a fare la cacca stiamo andando a frezzare l'aereo per arrivare nella prossima destinazione al ritorno però di nuovo quattro ore spero vadano meglio grazie a tutti a tutti Grazie a tutti.